Salve, siamo il team 1 dell'Iceo Scienze Applicate della Prima G, Liceo Fortunato. Noi come argomento da trattare abbiamo scelto Giustino Fortunato perché è nato a Rio Nero e è anche il nome della nostra scuola. Trovare del materiale su Giustino Fortunato è stato molto difficile, però ci siamo dati da fare e quindi abbiamo fatto un bel lavoro. Su Wordpress abbiamo messo anche delle immagini per descrivere la sua vita, molto importante, da senatore che difende il meridio.